Ciao, sono Damiano Orlandi e sono agente di assicurazioni e lavoro in questo settore dal 1998. Ho scoperto assicuratori facili per caso dalla rete e ho iniziato questo percorso della palestra per curiosità. Dopo i primi 15 moduli mi sono reso conto delle potenzialità del metodo e della necessità di iscrivermi a scuola. La scuola mi ha dato una visione completamente differente della mia professione, che dopo circa 20 anni aveva un po' perso la rotta insomma. Mi sono reso conto che per essere veramente utile e incisivo in questo settore dovevo iniziare un percorso di formazione dedicato, completamente fuori dalle logiche della compagnia che rappresento e dalle polizze. La scuola di assicuratore facile mi ha ridato consapevolezza dell'importanza di questa professione, oltre a un metodo unico di lavoro nella valutazione dei rischi. Pratico per chi lo applica, duplicabile in agenzia, ma al tempo stesso anche di grande utilità per il cliente. Lo consiglio sicuramente a tutti i miei colleghi che credono ancora in questa professione e che vogliono passare a un livello superiore rispetto ai colleghi.